Certe volte l'amore per la Sicilia, la passione civile può fare miracoli. Ieri a Palermo, attorno allo stesso tavolo, si sono riuniti i rappresentanti di 25 gruppi politici diversi provenienti da tutte le province per dar seguito alla nascita di un partito unitario, un partito unitario forte che rappresenti le istanze dei siciliani, che rappresenti il territorio e che risponda al territorio. Secondo un sondaggio che abbiamo recentemente commissionato, un partito di questo genere potrebbe rappresentare ben il 24% dell'elettorato e potrebbe chiedere con forza quello che la Sicilia non ha mai avuto a causa della mancanza di un proprio partito di riferimento. Si tratta di 4-5 miliardi l'anno che potrebbero essere spesi per pereguare le condizioni infrastrutturali, per migliorare le strade, le ferrovie, gli aeroporti, i porti, insomma per cambiare il volto della Sicilia e costruire un proprio modello di sviluppo, un modello di sviluppo che si attaglia a quelle che sono le condizioni, le risorse di cui la Sicilia dispone, le risorse agricole, quelle industriali, quelle turistiche, quelle ambientali, quelle del territorio in genere. Un partito dei siciliani di questa natura sicuramente potrà raggiungere questi obiettivi e credo la Sicilia se lo aspetti e i siciliani se lo meritano.